A Giulianova lunedì 20 febbraio cominceranno i lavori di ristrutturazione della piscina comunale. Interventi attesi da anni soprattutto dei tanti sportivi e ragazzi che abitualmente frequentano l'impianto in via Ippodromo e finanziati per un importo totale di 980 mila euro, composto da un finanziamento ministeriale per lo sport e periferie per l'annualità 2020 di quasi 700 mila euro e di un contributo da parte dell'amministrazione comunale di circa 280 mila euro. È un altro obiettivo raggiunto di una buona amministrazione, ringrazio l'assessore Di Candido ma ringrazio soprattutto i due delegati che sono Carpineta e Persiani perché interveniamo in maniera pesante sulla piscina comunale che non vedeva degli interventi ormai da 15 anni e quindi comprendete bene, vogliamo rendere idonea e più fruibile la struttura, oltretutto struttura che aveva delle perdite ormai non più controllabili dall'invaso che risale agli anni 70, quindi interveniamo. Gli interventi previsti per la riqualificazione e ammodernamento della piscina comprendono la ristrutturazione di entrambe le vasche ma anche l'installazione di nuovi impianti di filtrazione per entrambe le piscine, la realizzazione di un nuovo locale tecnico, il rifacimento di un solarium come anche di un piano vasche con illuminazione interna, la verniciatura della struttura interna in legno, l'adeguamento commesso a norma dello spazio per gli spettatori, la sostituzione per le canalizzazioni di aria all'interno ed infine la sistemazione del viale di ingresso all'esterno. Gli interventi dureranno sicuramente fino a settembre, abbiamo come scadenza quella data e gli interventi prevederanno appunto, più pesanti sono quelli sull'invaso in cemento armato che sta perdendo acqua ormai da anni e quindi con anche dei costi e degli aggravi sull'amministrazione comunale che sono molto rilevanti.